Ok, allora, buongiorno! Allora, vediamo se dovreste vedermi, mi sembra che funzioni tutto. Dunque, scusate se non vi ho registrato questo video prima, mi ero impagnato, come credo anche voi, a riempirmi di cibo. E come forse non so se potete vedere l'ora, qui sono le 15.44 del 25.12. Io da poco mi sono alzato da tavola e quindi sono ancora pieno di cibo. Io potrei sparare qualche stupidaggine, ma in effetti le cose che devo dirvi sono talmente poche che anche ci fossero delle stupidaggini, statisticamente ci aspettiamo che siano poche stupidaggini, almeno così speriamo. Dunque, ci eravamo lasciati con questa storia dell'emoglobina, giusto? E del legame del sangue, dell'ossigeno, della saturazione. Ultimamente si parla tanto di saturazione perché giustamente i malati di Covid appunto faticano a raggiungere questa saturazione. Infatti gli mettono questi caschi dove si aumenta, si sposta a destra la pressione forziale di ossigeno in modo da aumentare la saturazione. Ma a parte ciò, poi abbiamo anche accennato già al trasporto dell'anidride carbonica grazie a questo enzima anidrasi carbonica che di fatto semplicemente favorisce una reazione che avviene spontaneamente, cioè quella dell'unione tra anidride carbonica e acqua. La velocizza ma non cambia nulla, cioè appunto la favorisce semplicemente in modo che sia più rapida e nelle due direzioni, quindi da anidride carbonica ad acido carbonico o da acido carbonico ad anidride carbonica. E questo in realtà meccanismo con anche l'esportazione di questo ione bicarbonato è parte del sistema tampone del sangue. Ma io ho parlato con la vostra professoressa di chimica che mi ha detto che queste cose ve le ha spiegate abbondantemente che quindi dovreste saperle, anzi che avete parlato di tamponi e anche del tampone proprio diciamo con l'olione bicarbonato e specifico e tipico del sangue. Quindi io su questo procedo oltre insieme alla mia digestione. L'anemia falciforme secondo me l'avete sentita raccontare in tutte le salse è più una storia legata alla genetica che non alla biologia cellulare. Diciamo la forma mutata a determinati livelli di pH tende a formare delle fibre, delle fibrille. Queste fibrille ovviamente si aggregano e questo porta a questa deformazione dell'elettrocita. Ecco, forse se volete questo è l'unica cosa che ci interessa. E ovviamente quando è che avviene però questa variazione di pH all'interno della cellula dell'elettrocita? In genere quando viene infettato dal plasmodio della malaria. Ma secondo me anche queste cose già le sapevate quindi le rivedrete in genetica? Questo ce lo teniamo come una curiosità secondo me che vi hanno già detto. Ecco, poi dovevamo parlare di leucociti ma guarda un po' ne abbiamo pure già parlato. Quindi dobbiamo semplicemente buttare un occhio ad alcune cose che abbiamo già visto. Quindi questi ne abbiamo parlato. Linfociti TB, le natural killers sono appunto cellule che possono indurre apoptosi in cellule che non presentino in superficie il sistema maggiore di sto-compatibilità di cui in effetti non vi ho parlato e quindi possiamo dimenticarcele. Comunque diciamo che sono cellule in grado di uccidere quelle cellule che sfuggono ai sistemi di controllo qualità. Tutte le cellule abbiamo detto che grazie a questi sistemi, questo sistema maggiore di sto-compatibilità complex, complesso maggiore di sto-compatibilità, dovrebbero esporre parte di ciò che stanno sintetizzando, frammenti di quello che è in produzione in quella cellula, in superficie, in modo che i linfociti T con i loro recettori T possano passare e verificare che questi siano prodotti che abbiamo in catalogo, ovvero proteine self, parte del tipo di proteine, del set di proteine che vengono prodotte nel nostro genoma, o almeno nel genoma dell'organismo. Ecco, se questo complesso però ovviamente non viene esposto, le cellule potrebbero semplicemente sfuggire a questo sistema di apoptosi indotta e le natural killer in realtà servono proprio a occuparsi di quel caso specifico. E così, ve l'ho detto, lo sapete e siamo a posto, quindi questo l'abbiamo chiusa. Dendritic cells e macrofagi li abbiamo già visti, adesso vedremo così, ma giusto che faccia hanno, però più o meno è questa che vi dirò che si vede qui. La loro versione circolante sono i monociti, che appunto poi escono nei tessuti e diventano macrofagi o cellule dendritiche. E questo anche l'abbiamo già visto, quindi l'abbiamo già ampiamente discussi. Ovviamente i macrofagi tendenzialmente sono residenti, quindi sono cellule residenti nei tessuti connettivi, ma in caso di infiammazione possiamo avere un'ulteriore fuoriuscita, possiamo avere dei rinforzi dal circolo sanguigno e in questo caso sono proprio i monociti a fuoriuscire e a poi differenziare i macrofagi. O dendritic cells, questo dipende un po' dai lineaggi, visti così che rotolano nel circolo sanguigno, sembrano tutti uguali. In realtà vedremo tra i monociti, qui non sono citati, si trovano anche delle cellule che daranno origine agli osteoclasti, quindi alcune cellule in grado di digerire l'osso. Comunque anche questo più o meno l'abbiamo già visto, gli osteoclasti li vedremo a suo tempo. Ecco, quindi essenzialmente in realtà quello che ci rimarrebbe da vedere sono eosinofili, neutrofili e basofili, ma guarda un po' dei neutrofili anche vi ho già parlato, giusto? Quindi adesso li rivediamo velocemente, ma vi ho già detto quasi tutti, e quindi le uniche cellule nuove qui sono appunto eosinofili e basofili, che adesso vedremo. A grandi linee appunto vi faccio vedere questa che vi ho già fatto vedere, li dividiamo in agranulociti, nel senso che non hanno particolari granuli nel loro citoprasma e granulociti. Qui c'è un po' di confusione perché io vi ho detto che neutrofili e macrofagi sono cellule fagocitiche e quindi questi dovrebbero essere simili. In realtà adesso vedremo anche osinofili e basofili, cioè granulociti e agranulociti, a parte i linfociti, sono tutte cellule fagocitiche. In realtà un pochino anche i linfociti possono essere fagocitici. Quindi sono tutte cellule fagocitiche. Adesso vedremo però che questi granulociti hanno appunto una serie di granuli specifici di cui adesso velocissimamente vedremo le funzioni. Ma sapete che secondo me le abbiamo anche già viste? È vero che abbiamo visto una cellula con dei granuli caratterizzati da questi granuli metacromatici, li abbiamo visti colorati con il blu di toluidina, che erano metacromatici con il blu di toluidina. In realtà vedremo il blu di metilene, anche lui li colora in modo intenso, sono colorati con quello, e vedremo un po' anche tra l'altro in modo metacromatico in parte. Va bene. Quindi un po' di granuli abbiamo anche già parlato, quindi potremmo già aspettarci tutto. Questo lo sappiamo, quindi neutrofili, linfociti, è una piccola parte di altre cellule. Altre cellule, come per esempio i monociti, che sono pochi nel sangue, ma questo principalmente perché fuoriescono. E osionafili e basofili anche loro possono uscire nei tessuti, però tendenzialmente sono più circolati. E vediamoli velocissimamente. Questo, ah scusate, mi sono dimenticato un piccolo dettaglio. I numeri di queste cellule, quindi le proporzioni relative di questi tipi di cellule, sono abbastanza caratteristiche e li trovate in tutte le analisi del sangue. Ve li contano, dove viene fatta la cosiddetta conta leucocitaria. Ecco, però possono variare, ci sono entro certi range, possono variare per esempio in caso di infezioni, potete immaginarlo, l'abbiamo già detto, queste cellule possono proliferare, quindi aumentare o magari anche a livello centrale nel midollo, quella linea linfoide può essere, o mieloide, insomma a seconda di dove serve, possono essere modulate, quindi possiamo avere aumenti di questi globuli bianchi perché magari c'è un'infezione. Ecco, ci possono essere però degli aumenti ovviamente eccessivi, e in questo caso avremmo però magari delle forme tumorali o altri tipi di leucocitosi, detto proprio così in modo molto generico. Possiamo avere però in realtà anche, e sempre però si tratta di situazioni patologiche, una leucopenia, e quindi si tratta di malattie in cui invece i globuli bianchi o muoiono o ne vengono prodotti in forma ridotta e appunto abbiamo poi chiaramente dei deficit del sistema immunitario. Però tutte queste cose in realtà le studierete a suo tempo, quando farete patologia. Ecco, allora, quello che appunto tutto sommato ci rimane da guardare, i neutrofili, ve li ho già detti, a proposito di questi granulociti, i neutrofili, ne abbiamo già parlato, queste sono le stesse cose, qui se volete ci sono delle immagini forse diverse, ma tendenzialmente le stesse immagini. Ah, forse scusate, sì, per i neutrofili si distinguono, non mi ricordo se ve l'ho detto o no, classicamente questi granuli azzurrofili, quelli specifici e quelli terziari, che sarebbero granuli che appaiono differenti, io vi ho detto che sono diversi, e poi non sono entrato troppo nel dettaglio. Gli azzurrofili tendenzialmente sono lisosomi, però non sono neanche facili da distinguere, quindi secondo me la cosa importante da ricordare qui è che sono eterogenei, quindi ci sono sia dei lisosomi che in realtà altre forme di granuli che possono contenere per esempio enzimi in grado di produrre per esempio radicali dell'ossigeno come quelli che possono essere messi in circolo, diciamo così, dall'acqua ossigenata. Quindi forme reattive dell'ossigeno in generale, ovviamente sono molto attive, perché usiamo l'acqua ossigenata per proteggerci? L'idea è venuta a noi, sì forse, ma è venuta in ritardo, perché le cellule del sistema immunitario e non solo i granulociti neutrofili usano quest'acqua ossigenata per creare danni in generale alle cellule batteriche. E poi ci sono però altre molecole che in generale hanno una funzione antibiotica, cioè antibatterica, in genere più a aprire dei canali nelle membrane dei batteri, quindi riconoscere elementi strutturali specifici delle cellule batteriche o di potenziali patogeni e quindi attaccarle direttamente o rendere comunque l'ambiente un po' più ostile, non troppo così piacevole per queste cellule. ecco, poi che abbiamo, però appunto queste cose tutto sommato ce le siamo già detti, e quindi che abbiamo ancora? I granulociti basofili. Ecco, questi invece sono nuovi, di questi io non vi ho ancora detto nulla, ma tu guarda un po', che come sono fatte? Mi ricorda qualcuno questa cellula? Già, perché hanno questi granuli fortemente colorati che contengono questi granuli eparina, istamina e una serie di altre molecole generalmente implicate nella risposta infiammatoria. Tra l'altro, qui non c'è scritto, ma ve lo dico io, ah no, sì, forse c'è scritto, presentano anche recettori per questa porzione costante delle immunoglobuline, ovvero sono in grado di mettere alla propria superficie di raccogliere quelle immunoglobuline che trovano in giro, quindi ovviamente immunoglobuline che sono state prodotte contro antigeni, potenzialmente patogeni, con cui l'organismo è venuto incontro, in contatto, quel giorno, no, quel giorno forse no, insomma comunque in quel periodo. E questi vengono raccolte e esposte in membrana e ovviamente la presenza di, quindi la stimolazione di queste IgE, che sono il particolare sottotipo di immunoglobulina che piace tanto ai vasofili, provoca la degranulazione. Ma guarda un po', anche questa storia l'abbiamo già sentita, di cellule che raccolgono queste IgE, le mettono in membrana e quel legame dell'antigene con queste IgE immunoglobuline provoca la degranulazione del mastocita, ovvero la produzione, no, l'esocitosi di tutte queste molecole che lui contiene. Ve la sto dicendo così, appunto con queste parole difficili. Perché? Perché l'abbiamo già vista questa storia. Si chiamavano, non ve lo dico, dovete andarvelo a vedere, come si chiamavano queste cellule molto simili ai vasofili e adesso penserete, vabbè, allora ecco, abbiamo trovato semplicemente l'equivalente del mastocita solo all'interno del sangue. In effetti, questo è quello che hanno pensato gli istologi per molto tempo, sono talmente simili, sono circolanti, passeranno nei tessuti e si trasformano in mastociti. In realtà non è così. Si somigliano, sono quasi uguali, ma geneticamente, se seguite i lineage, sono differenti. I mastociti sono cellule residenti che, come era per, abbiamo visto per i macrofagi, sono cellule che arrivano nei tessuti presto durante lo sviluppo e lì poi rimangono, si mantengono, mentre queste cellule invece sono circolanti, quindi sono una popolazione distinta, anche geneticamente come tipo di progenitori, queste derivano da progenitori adulti, mentre i mastociti derivavano dai progenitori embrionali. Evviva! E cos'altro possiamo dirci? Niente di più, semplicemente questi granuli sono più grandi, anche qui vedete che queste cellule hanno queste vescicole, queste sono tutte vescicole di endocitosi, quindi fanno endocitosi meno rispetto ai neutrofili o ai macrofagi, ma queste tutte, anche gli osinofili, vedremo, anche i mastociti fanno della endocitosi, e però appunto vedete questi granuli con forme diverse, guardate che belle, sembrano chiaramente, no? Il contenuto di ciascuno di questi granuli è differente, alcuni di nuovo quelli che chiamati azzurrofili sono lisosomi, in genere sono quelli più scuri i lisosomi, però ce ne sono anche altri che invece contengono varie sostanze in grado di stimolare e pompare la risposta infiammatoria. Ok, accanto ai basofili troviamo nel sangue poi un'altra, scusate, i basofili li riconoscerete, qui in effetti non sembrano quasi uguali, è bruttissima questa foto, ma andate a guardare i preparati, vedrete, questi bisogna proprio andarli a cercare, però i granuli sono colorati dal blu di metilene in modo forte, violento, con un bel viola scuro, quindi li vedrete molto ben colorati, sono coloratissimi, mentre gli eosinofili sono colorati bene dall'eosina, in questa foto in effetti è stata colpa mia che sono andato a scegliere in queste foto, comunque, in questa foto in realtà non si vede bene la differenza, c'è un po' sì, vedete che qui il viola dei granuli e il viola del nucleo è uguale, qui si vede che il viola del nucleo è viola e questo è un rosa acceso, qui forse le ragazze magari che in genere sono più brave con i colori avranno detto ma sì, infatti professore ma si vede benissimo che sono due colori diversi, buon per voi, io con i colori sono un po' scarso anche se faccio l'istologo e a me sembrano quasi uguali comunque con un molto sforzo riesco a vedere che effettivamente questo è più rosa il rosa dell'eosina è per questo che li chiamiamo eosinofili allora questi sono granuli in effetti in gran parte proteici quindi contengono delle proteine anche loro possono fare di granulazione ma in realtà hanno un ruolo se volete un po' alternante no, come si dice opposto a quello dei basofili perché effettivamente sono più legati a modulare in senso negativo a fermare a calmare fanno da feedback negativo quindi c'è chi pompa e chi crea questo entusiasmo per l'infiammazione l'infiammazione però va tenuta a bada a un certo punto quando smette cioè a un certo punto ci deve essere un equilibrio in cui invece si torna verso una situazione fisiologica l'infiammazione cronica non fa bene e per esempio queste sono cellule in grado di ridurre grazie a degli enzimi la risposta infiammatoria nonché però non partecipano a queste risposte infiammatorie perché anche loro sono fagociti e producono in realtà anche molecole pro-infiammatorie siamo confusi e vedrete che anche dopo che avrete studiato patologia sarete ancora confusi è complicata è una storia complicata ok questa volta se andiamo in microscopia elettronica vediamo di nuovo dei granuli un po' diversi e però in questo caso molto diversi perché alcuni di questi hanno questa struttura quasi cristallina con delle appunto con questo corpo cristalloide che si trova all'interno del granulo questo è legato alla composizione e io qui non vi dico molto altro va bene così anche perché noi non studiamo diciamo tutti i rapporti e i meccanismi attraverso cui la risposta infiammatoria viene diciamo instaurata e poi come viene poi invece lentamente superata questo non lo vediamo e quindi siamo a posto è inutile che entriamo in troppi dettagliucci molecolari i monociti che dire dei monociti occhio non confonderli per i linfociti tutto lì e in cosa si distinguono qui abbiamo già detto tutto l'unica cosa che ci rimane da appunto su cui fare un po' di attenzione oh guarda questo scusate mi sono distratto ma ho visto una cellula che io ho subito riconosciuto ah anche questa l'ho subito riconosciuta guarda che bello qui un linfocita non c'è per fare il paragone però devo averlo da qualche parte ecco qua il linfocita vedete è una cellula che ha pochissimo citoplasma i nostri famosi nuclei rotolanti questo gruppo rock di cui vogliamo assolutamente un disco ci saranno l'hanno fatto una hit di Natale adesso la cerco e ve la mando sul sito comunque invece i monociti come potete vedere hanno un po' più di citoplasma e molto spesso hanno questo nucleo eh ah non lo so maschera di carnevale maschera per dormire come volete chiamarla comunque un nucleo bilobato se volete esistono delle poi chiaramente dipende da come è girato qui magari eh lo capite qui lo stiamo vedendo per così ma se io giro per così eh se lo guardiamo eh dal girato di 90 gradi chiaramente questi due lobby potremmo non distinguerli quindi però comunque vediamo che sfora un po' di citoplasma quindi dovremmo accorgercene ecco qua questa bella mascherina tipica di questi monociti qui la cellula in realtà è abbastanza quesciente per il momento e vedrete si attivano poi invece di più una volta usciti nel circolo sanguigno linfociti chiaramente la dimensione dipende dal grado di attivazione quando diventano plasmacellule però basta di questo abbiamo detto tutto e invece per salutarci per dirci addio ci diciamo addio no solo per quest'anno ci rivedremo a breve ci diremo addio con un trombocita ecco è un bel modo di salutarsi i trombociti chi sono i trombociti sono piccoli frammenti di cellule meglio noti come piastrine forse noti di più al grande pubblico come piastrine e sono questi qua platlets in inglese le piastrine e che cosa sono le piastrine sono dei frammenti di cellule sono piccoli appunto pezzetti di cellule che sono circolanti adesso vedremo coinvolti nella coagulazione e che originano però da delle cellule che si trovano nel midollo rosso quindi nella zona specializzata nella produzione di elementi del sangue quindi nella nel midollo rosso dove avviene l'emopoiesi la sede dell'emopoiesi e questi megacariociti appunto sono delle cellule giganti dei bestioni e impossibile scusate andiamo direttamente a loro eccoci qua direttamente in questa foto presa a livello del midollo rosso nell'epifisi di qualche osso lungo quindi questa è una zona in cui si riconoscono molti precursori di cellule del sangue precursori di tutte le cellule granulociti granulociti eritrociti anzi la stragrande maggioranza sono precursori degli eritrociti adesso non mi ricordo la cifra esatta ma sono quelle tipo 100 200 milioni di eritrociti al minuto al minuto vengono prodotti ogni giorno e comunque sono delle produzioni enormi che avvengono appunto in queste zone quindi la maggioranza saranno questi pro eritrociti con ancora il nucleo lo sapete viene sputato proprio solo all'ultimo ok mentre queste enormi cellule chiaramente più grosse di tutte le altre l'incredibile Hulk questi sono i megacariociti e se andiamo a guardare qui sono altri esempi di queste cellule quindi sono in realtà derivati dalla fusione da qualche parte di più nuclei quindi in genere sono sono polinucleati cioè in realtà è un unico nucleo più grosso uffa da qualche parte ce l'ho ecco e essenzialmente appunto queste cellule presentano una serie di processi che si che si frammentano quindi vengono si separano le membrane si separano e quindi avremo questi piccoli frammentini di cellule che appunto diventeranno le piastrine sono pezzi di cellule frammenti di cellule e nel circolo questi frammenti di cellule però hanno la capacità di aggregarsi a formare appunto delle specie di strutture più grosse per creare dei tappi qui si vabbè andatelo a vedere non ve lo faccio vedere adesso però per essenzialmente tappare là dove ci possono essere delle aperture sul sull'endotelio dei capillari quindi dove ci sono delle piccole rotture la primissima reazione è proprio questa aggregazione delle piastrine tra di loro e spesso nei preparati in realtà negli strisci di sangue questo avviene quindi potete vedere appunto che è così e cosa possiamo dire in realtà al loro interno ci sono una serie di enzimi volti a risolvere i coaguli quindi enzimi idrolitici ci possono ci può essere un po' di fibroinogeno ci possono essere dei fattori della coagulazione cioè l'aggregazione piastrinica è uno dei meccanismi che da origine che inizia è la fenomeno di coagulazione del sangue e adesso vedremo la coagulazione in realtà che sarebbe questa formazione di questo fibre il fibrinogeno quindi attivazione del fibrinogeno a formare fibrine poi dei reticoli quindi per far comparire questa componente fibrosa che abbiamo detto è latente nel sangue quindi le piastrine la loro aggregazione ha in seconda battuta come evento successivo potenzialmente ovviamente ci saranno vedremo una serie di check attivata la coagulazione del sangue e ci sono poi però anche una serie di altre molecole l'istamina quindi diamo l'inizio a una reazione infiammatoria chiaramente ci sono fattori di crescita come il PDGF molto famoso platelet derived growth factor questo stimola soprattutto i fibroblasti a produrre nuova matrice extracellulare perché probabilmente se c'è stato un danno bisogna creare una cicatrice l'inizio di questa cicatrice in genere è un tessuto ricco di di collagene comunque di matrice di matrice diciamo tipo tessuto connettivo diciamo propriamente detto quindi una matrice fibrosa che creerà la cicatrice ma anche tutte queste cose io penso che un giorno le vedrete le studiere e ok quindi io non vi direi molto di più magari vi lascio con questa bella foto ah no ancora una cosetta ve la devo dire comunque per chiudere il discorso sul midollo rosso e la formazione delle cellule del sangue questa bella foto di microscopia elettronica dove si riconoscono effetti alcuni cosa saranno queste cellule con un citoplasma molto denso non hanno la forma che siamo abituati a vedere ma hanno questo citoplasma denso che cosa sono così omogeneo mentre ci sono altre cellule un po' più robate un po' più granulose queste sono tutte chiaramente ancora leggermente diversi dalle forme mature però già abbastanza riconoscibili già abbastanza distinguibili e vabbè qui in realtà sono anche citati e poi queste enormi cellule che sono i megacariociti ok l'ultimo elemento in effetti su cui noi finiamo la nostra carrellata proprio veloce avete visto sul sistema circolatorio le cellule del sangue è la comparsa di questa componente latente che è appunto la coagulazione quindi la formazione del cosiddetto reticolo di fibrina abbiamo detto nel sangue una proteina una delle più abbondanti nel plasma è proprio il fibrinogeno ecco questo fibrinogeno appunto come abbiamo già visto se volete per altre proteine la cui aggregazione viene inibita strutturalmente da alcune parti della molecola che impediscono le impediscono di aggregarsi con le altre adesso lo vediamo la stessa cosa succede al fibrinogeno ecco qui svelato il mistero vedete il fibrinogeno appunto è una proteina in grado di formare dei filamenti strutturalmente è a sé diciamo così però appunto il concetto è molto simile a quello che abbiamo già visto per il collageno che avete visto per i filamenti intermedi quindi con alcuni monomeri che si associano insieme a formare delle lunghe fibre questa associazione però dipende da interazioni proteina proteina e riconoscimento di motivi molecolari motivi molecolari che però sono mascherati dalla presenza di alcuni peptidi aggiuntivi nella forma inattiva quindi parliamo di fibrinogeno quando appunto abbiamo la proteina con questi qui li vedete in viola e in verde queste forme questi peptidi aggiuntivi che impediscono l'interazione quindi la formazione della fibra ecco che però esiste un enzima e quindi a questo punto vedremo che la regolazione della coagulazione dipende proprio dal come e quando viene attivato questo enzima un enzima con un nome facile da ricordare si chiama trombina e la trombina perché forma le trombosi per questo è facile da ricordare la trombina taglia questi peptidi e appunto permette a questo punto l'interazione e quindi questa componente appunto fibrosa latente invece inizia ad aggregarsi e a formare appunto dei filamenti quindi si formano dei filamenti localizzati però solo in quella zona ed è importante che appunto questo qui nel sangue è tutto liquido però è importante adesso vedremo ci vorrà un sistema potete provare a immaginare come potrebbe funzionare per poter diciamo così per poter limitare localmente l'attivazione di questi enzimi in modo che il reticolo di fibrina si formi solo in quel punto e non improvvisamente con una reazione a catena tutto il nostro corpo tutto il nostro sangue diventi improvvisamente un enorme coagulo quindi il segreto è proprio cercare di creare una cascata che localizzi l'evento e la cascata è questa che vedete ci sono una serie di controlli e sottocontrolli per due motivi uno è proprio quello di evitare che questo questa cioè di evitare che il sangue coaguli quando non deve quindi ci sono tutta una serie di passaggi e si tratta in genere di attivazione per proteasi quindi sono proteasi che attivano i fattori il fattore 12 il fattore 11 il fattore 9 il fattore 10 andiamo via così che si incrociano in realtà con una serie di altri fattori e quindi quando tutti sono d'accordo a questo punto attiviamo la trombina quindi anche l'ever passerà da protrombina a trombina e in questo modo avremo poi l'attivazione a fibrina e il deposito di questa cosa ecco allora tutti questi eventi ovviamente rappresentano da un certo punto di vista un controllo però allo stesso tempo anche sono eventi che in genere avvengono per più cause diciamo così localmente quindi questa è una cascata di segnale estremamente locale d'accordo quindi il coagulo deve essere estremamente localizzato e questo meccanismo in realtà lo studierete più avanti però potete cominciare a ragionarci permette anche di ottenere questo ok dopodiché se fossimo stati vis-a-vis insieme così per i saluti di Natale se fossi riuscito ad arrivare fin qui avrei potuto farvi questo giochetto online e in realtà adesso passerò in carrellata velocemente quindi io vi suggerisco di mettere in pausa il video e cercare con me di indovinare queste cellule ok ci sono una serie di cellule misteriose e io adesso le passerò velocemente la cellula misteriosa numero zero chi è? in realtà voi qui dovete mettermi tutti i tipi di cellule che state vedendo cellule del sangue quanti tipi quali tipi dovrete giocarlo da solo questo gioco e io non vi dirò la soluzione magari quando ci vediamo a settembre se lo volete se me lo chiederete appositamente mi scusi professore alza la mano un ragazzo e mi chiede mi potrebbe svelare quali erano le cellule che ha fatto vedere e io in quel caso lo farò volentieri per adesso ve le faccio passare solo velocemente quindi adesso passerà mettete in pausa e cercatele tutte un po' di E questo? Questo è qualcuno che non sta bene. Come potete vedere, per esempio, questa è una tipica leucemia. Avete visto, normalmente i globuli bianchi non sono così abbondanti, quando ne vedete troppi, e poi chiaramente per sapere quante troppi bisogna appunto conoscere un po' i numeri e le densità, però entro certi limiti si tratta magari di un'infezione, al di sopra invece potrebbe essere una leucemia o altri tipi di patologie. Ma perché lasciarci con una cosa così triste? Mentre invece, oh 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 oh, questo era il mio regalo di Natale e quindi a questo punto dalla cameretta dei miei figli si chiudono le trasmissioni per quest'anno. Ci vediamo l'anno prossimo. Au revoir.